Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog flash Non riesco a fare tanto acuti perché ho una tosse pazzesca Sono, come vedete, mega incappucciata con le orecchie Io Shrek, vabbè io il mio sosia Per lui è verde, io sono un po' più chiara, ecco Però si sta bene in questo pigiamone Allora, per quelli che continuano a rompere, a dire che schifo quel letto, che squallore Allora, questo letto è semplicemente graffiato, ve lo faccio vedere bene Sono le unghiette che si è fatta Yumi Non è sporco, non è rotto Abbiamo cambiato il materasso, poi cambieremo anche il letto Ovviamente non lo prenderò più in questa tipologia qua Che so che si fa le unghie, cioè proprio impazzisce Yumi E... ma non ha nulla, non è sporco Nonostante i graffi, io comunque ci passo il panno Lo pulisco E niente, specificavo sta cosa Anche se onestamente Ho un pelucco qua Ecco, no, aspettate Vabbè, lo tolgo Vabbè, è un pelucco Vabbè, ehm... Sì, eccolo lì il pelucco Non riesco a toglierlo L'ho tolto, no Forse l'ho tolto Sì, l'ho tolto Niente, io non sto... non sto bene, ragazzi Ho praticamente una tosse atroce Pazzesca Eh... e stavendo anche il raffreddore Però... mh... vado avanti lo stesso E... mh... e niente Questo, io devo dire Non sto molto bene Però... mh... però niente Si va avanti lo stesso Si lavora, si fa tutto E... e nulla Vi saluto, ciao Vabbè... Vabbè...